Ragazzi, io mi vergogno, io mi vergogno, io mi vergogno di questo allenatore, mi vergogno di questo gioco qua che non è gioco del calcio, mi vergogno di avere dei tifosi di merda nella mia tifoseria, di merda, ok? Mi vergogno di avere gente come voi che difendete ancora questo schifo direttamente e indirettamente, ah sì, le prestazioni in campionato mi pare che in Europa League non vada tanto diverso, tanto diversamente a livello di prestazioni, vinci 1-0 contro lo Sporting che si mangia 4-5 palle e golle e tu hai avuto una palla e golle e mezza e praticamente se la sono buttata dentro a soli. Ma l'Europa League, ripeto, è da inizio, da quando siamo in Europa League che dico che la Juventus la può vincere, perché l'Europa League non è un discorso di, vedete, lo United pareggia 2-2 con Siviglia, non è un discorso di squadra forte, di gioco, non gioco, che modulo gioca, no, è un discorso che vince, no, chi non ha nulla da chiedere al campionato il problema, ragazzi, è che la Juventus, non è che stia facendo chissà che prestazioni in Europa, cioè non è che vedi Faccio esempio, l'Inter in campionato fa cagare comunque a livello di gioco, va benissimo, ma a livello di atteggiamento, vedi, un atteggiamento comunque completamente diverso in Europa rispetto al campionato, a Juventus no, e qua non è un discorso di sentenza, non sentenza, questo è Allegri e questo sarà sempre Allegri, uno schifo di allenatore, io mi vergogno di questa, di queste prestazioni di merda indecenti, e chi non si vergogna non è Juventino, chi non si vergogna non è Juventino, Cazzo, tra primo tempo e secondo tempo i due migliori in campo sono Cesni e Perini, i due portieri praticamente, che sono entrati, che Perini è entrato a porto di Cesni, il primo tempo salva alla porta Cesni e secondo tempo all'ultimo Perini, ma lì è più impedito il giocatore che invece di alzarla, ragazzi, Chi mi diceva, questi sono scarsi forte, non sanno neanche loro come l'ha battuto l'Arsenal, e semplicemente l'Arsenal non ha questa grandissima fame di Europa League, dato che è primo in Premier League, e la Premier League vale 20 volte l'Europa League, E l'Unionati è stessa roba, sì, non sto dicendo che si scansano l'Europa League, però ci mettono meno, diciamo, meno voglia, cioè, se devono mettere il piede lo mettono in Premier League e non in Europa League, Perché l'Unionati si gioca un posto in Champions ed è molto più facile arrivarci per l'Unionati attraverso il campionato che attraverso l'Europa League La Juventus non ha nulla a perdere, quantomeno a livello di prestazione poteva fare qualcosa, ma ragazzi, io poi domani dovrò anche fare l'analisi tattica, ma Sto allenatore qua passa 3-4, cioè, paura dello sporting, ha messo due centrocampisti allevato di Maria e chiuso con il 5-4-1 o 5-3-1-1, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che questo non è gioco del calcio, che questo è proprio umiliare il gioco del calcio E' partito con, domani faremo un'analisi tattica, quindi magari ne parleremo anche meglio E' partito con il 3-4, cosa? 3-5, perché alla fine è una linea 5-5-2-3, 5-2-2-1, perché poi c'è Aminic, Aminic ha fatto anche lui male Chi è che salvi oggi? Gatti per il gol, è andato un po' in crescendo nel secondo tempo Bremer, Danilo non mi è piaciuto per niente, Gatti, Bremer Chiese un po' per la voglia, ma per me non è sufficiente Chi salvi oggi? Chi salvi? E i due portieri, i due portieri sono i migliori in campo, da 6-5 loro due E do 6-5 perché comunque quelli sono siccome più colmanzati di loro, dei loro giocatori piuttosto che Grandi parate dei nostri giocatori, dei nostri portieri, però quantomeno erano lì, sono stati pronti Gli dai 6-5, gli dai 7-5, 8, sono miracoli, sono più errori dello sporting Ragazzi io sul finale là si mangia due volte il gol Che cazzo parliamo? Ma di che cazzo parliamo? Locatelli indecente, questo grandissimo rabbio vergognoso Kostic imbarazzante, Quadrado non ne parliamo che dietro lascia sempre spazi e poi davanti non combina un cazzo Milik Ripeto, è una squadra non di campioni Ma sicuramente uno è un attore diverso, ok? Improntato più all'attaccare che al difendere Avrebbe valorizzato molti i giocatori Che adesso no, anche io critico E che a me non piacciono in generale Poi è passato la difesa 4-4 3-3, no? Quando è entrato Fagioli se non sbaglio Poi va in vantaggio Miracolosamente Col portiere che fa un'uscita del cazzo Il difensore che lascia il pallone E Gatti se la trova lì e fa gol Miracolosamente va in vantaggio Cos'è che fa? Arretra Fagioli come quinto Leva di Maria E gli ultimi 8 minuti Praticamente 8-10 minuti li chiude con il 5-4-1 5-3-1-1 Ragazzi questo è Massimiliano Allegri Questo è Massimiliano Allegri E non potete giustificarmelo Col discorso assendenza Perché questo è Massimiliano Allegri Da 7 anni Prima si vedeva qualcosa di più Perché aveva giocatori più di qualità Ma non è lui che dava qualità al gioco Era un giocatore che dava qualità Al suo non gioco Che è diverso E i primi due anni Non li rinego Perché ha fatto un buon lavoro Eh sia chiaro Però poi non ha mai fatto I soldi di qualità Non è mai stato a passo con i tempi E... Grazie Non esiste Questi qua sono tutti a casa tua A palleggiarti Poi lo stadio che si sveglia dopo un gol di merda Come quello di Gatti Stadio L'Allianz Touristic Village Che poi l'Allianz fa tanto Parla tanto Del discorso degli scontri Dopo... Sì, degli scontri Della discussione Della rissa Invento Sinters Tu Dovresti Incazzarti Per come è diventato Il tuo Tuo Tra virgolette stadio Che hai dato il nome Hai prestato il tuo nome A un Un impianto Che non è uno stadio Ma forse ti va bene così Eh va bene Perché Questi sponsor qua Non c'entrano un cazzo Col calcio C'è poco a fare Che vergogna ragazzi Mamma mia Partita indecente Indecorosa Indegna Vergognosa Per il resto Di Maria Anche lui Pessimo Oggi Ti aspetti a giocata Lui Vabbè Ha fatto cagare Entra Vlaovic Si fa munire Vabbè Poi Vedremo Nei voti Chi cazzo C'è Male tutti A parte qui 3-4 Però Per il resto Sono sulla sufficienza Il peggiore Come sempre Mi viene anche a sboccare Per colpa di questa merda Come sempre Massimiliano Allegri Io ripeto Penalizzazione La più grande penalizzazione È aver ripreso Massimiliano Allegri Quella è la più grande penalizzazione Che abbiamo Porca troia E poi anche l'arbitro L'ha dato 3 minuti di recupero Si è rotto i coglioni Pure lui Di vedere sto schifo È una roba allucinante Ragazzi È una roba allucinante Domani vedremo Vedremo con l'analisi tattica Se mi verrà voglia Di farla Perché poi Cazzo di analizzare Però Cercheremo di Fare un po' più I professionali Domani Però La roba Non crei nulla Tu vedi In fase di possesso Palleggio Zero Anche quando noi abbiamo possesso Palle Siamo nella metà campo Avversaria Loro Ci fanno giocare Come il Villarreal L'anno scorso Perché sanno che non Creiamo meccanismi Non abbiamo idee Abbiamo un allenatore Che non dà idee E quindi sanno Che ricopreranno La palla E poi ripartiranno Questo è Questo è il gioco Di Massimiliano Allegri Da Juventus Punto Questo è E per la maggior parte Del tempo Praticamente È subito Lo Sporting È subito Lo Sporting E non dite Che lo Sporting È forte ragazzi Lo Sporting E poi ovviamente Possesso parla a favore Lo Sporting Non ci mancherebbe Lo Sporting Nel nostro campionato Arriverebbe A metà classifica Grazie L'anno scorso Quando è stato preso Lo Sporting Prima che poi Venisse rifatto Il sorteggio L'anno scorso Tutti hanno detto Per fort Sfortunatamente Abbiamo ripreso Il Villareal Perché prima Lo Sporting Era una squadra Agevole E in un anno Non è che è cambiato Chissà che cosa Parliamo dell'Europa League Non della Champions Sono fatte Perché l'Arsenal Punta molto di più Sulla Premier Che poi vedremo Se la vince o meno E quindi Tira magari un po' Indietro la gamba Non lo combatte Perché io ho visto Le due partite Sì Ok Non è che si è scansata L'Arsenal Però Non ha messo la voglia Che ci metti in Premier Perché guardate La differenza tra le partite In Europa League E quelle in Premier League E vedrete Tutta la differenza del mondo Per chi Osserva Per chi guarda Il calcio E non per chi dice Quattro puttanate Da bar Vabbè Per il resto Vedete Ci siamo abbassati Cioè ci siamo abbassati Ha ragione Gianni Lai mi ha detto Non è che si abbassa Fagioli Chi è che si è mai alzato Effettivamente ha ragione Ma Siamo ripassati A 5-4-1 E abbiamo rischiato Di prendere gol E fino a quel momento là Nonostante stessimo facendo cagare Non avevamo rischiato Ti abbassi Ancora di più Fai questi cambi Perché vi dico sempre Questi cambi difensivi Oltre che A far capire I tuoi cosa vuoi fare Cioè difendere E basta Fai capire anche L'avversario Che gli stendi Il tappeto rosso Perché io difendo Tu devi attaccarmi E vieni In a rigore mia Solo che Non è più La solidità difensiva Di 5-6 anni fa Prima cosa Questa solidità difensiva Allegri Non ce l'ha Quest'anno Quest'anno e mezzo Non l'ha dimostrata Perché qua dicono Grande solidità difensiva Creensheet Creensheet Grazie al cazzo Questi qua sono scarsi di merda Sono mangiati 4 gol Creensheet Grazie Cioè per colpa loro Creensheet Porca puttana Poi no Come arrivi in finale A Cardiff A Berlino A Cardiff La miglior difesa La miglior difesa Prendi 7 pappine In due finali Eh le squadre più forti Sì ma nessuna Ha mai preso 7 gol In due finali Ma nessuno In due finali di fila Primamente Nessuno La Juventus E ci sono state squadre Che hanno affrontato Squadre comunque Forti Quanto se non di più Addirittura di quei Barcellona E Real Madrid E non hanno perso così Eh Vabbè E non do le colpe principali Ad Allegri Per le finali Di Champions Perse Eh sia chiaro Ma d'altronde Non è naturale che ti dice In conferenza stampa Pre partita Eh sarebbe importante Tornare a giocare una finale Mica vincerela A giocarla Eh Poi Prima della partita Fa la provocazione Eh ho messo i tre attaccanti Così siete contenti Sì ma non conta Quanti attaccanti metti Purtroppo ragazzi Con Allegri Infatti non so Non è che mi aggrappi Più di tanto In questi ultimi periodi No alla difesa 3 5-4 Perché con Allegri Tu puoi mettere anche il Abbiamo visto quel 4-2-3-1 Che siamo andati a Cardiff Non è che stessimo facendo Chissà che calcio A parte contro il Barcellona Che comunque era un Barcellona In fase calante Era comunque un 4-4-2 Più che altro Un 4-4-1-1 In fase non possesso Era comunque un modulo difensivo Perché lui riesce a Eh Farti trasformare Anche un modulo Prettamente offensivo In un modulo difensivo Eh c'è poco a fare È così Lui è così Non sa vedere L'attacco Non sa vedere I meccanismi offensivi Le dinamiche Il dinamismo Non sa cos'è la dinamica Non sa cos'è il dinamismo Nel mondo del calcio Lui è rimasto al calcio Statico Di posizione Di 15 anni fa E così non si va da nessuna parte Perché poi ripeto Può vincermi anche la Champions Faccio un esempio estremo Può vincermi anche la Champions Ma questo allenatore qua A me non piacerà mai E per me non sarà mai Un grande allenatore Anche se vince la Champions Questo allenatore qua Punto Perché non è che Di Matteo L'ha vinta E quindi è un grande allenatore E questa cosa qui Qualche anno fa Non l'avrei mai detta Ma siccome ha dimostrato Di non voler Migliorare Per sue battaglie Ideologiche E allora Questo è il risultato Grazie Vi auguro buona serata a tutti Sempre e comunque Fino alla fine Forza Juventus Bello bello lo stadio L'Allianz L'Allianz Touristic Village Il villaggio turistico L'Allianz qua Tutti con il cellulare Tutti zitti Bello 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 ambiente Complimenti anche a chi permette A chi consente Non chi consente A chi Fa sì che Sia Non sia più uno stadio Il nostro E ho tantissimi rimpianti Tantissima malinconia Nostalgia Vedendo Ad esempio E sentendo il tifo Ieri di Milano E ricordando un po' I fasti All'inizio Dello Juventus Stadium Del vecchio Juventus Stadium Cos'era la cuva Ma cos'era lo stadio Che era una bolgia Cioè sentitevi Dopo il primo scudetto No We are the champions Scantato da tutto Lo Juventus Stadium Al primo scudetto Di Conte Sentitevelo Che è da brividi Altro che Il The Champions Dei Napolitani Detto questo Buonasera a tutti Ci vediamo Alla prossima Ah tra l'altro Ho bannato Un napolitano Oggi Che è venuto A dirmi Che praticamente Attacco in maniera Prevenuta Ai napolitani Sì Talmente prevenuto Che ho amici A destra e a sinistra Napolitano Vabbè ma comunque Questa gente qua È giusto bannarla Perché purtroppo Questo l'ho sbannato Perché ho sbannato Un po' tutti Però Devo ritornare A ribannare Questa gente Che non per cazzo Che non sa Niente di me Ok Buonasera a tutti Alla prossima